Il mito dell'Eldorado, la leggenda della città d'oro. L'Eldorado è una leggenda che ha affascinato l'immaginario collettivo per secoli. Si tratta di una città d'oro, situata in una terra remota e inaccessibile, dove abbondano le ricchezze e la prosperità. Le origini della leggenda dell'Eldorado sono incerte. Alcuni storici ritengono che sia nata tra i popoli indigeni dell'America meridionale. Altri ritengono che sia stata importata dagli europei, che erano alla ricerca di nuove terre da conquistare e di ricchezze da depredare. La leggenda dell'Eldorado si diffuse rapidamente in Europa nel XVI secolo, dopo la scoperta delle Americhe. Molti esploratori e conquistadores si misero alla ricerca della città d'oro, ma nessuno riuscì mai a trovarla. Le spedizioni alla ricerca dell'Eldorado Nel corso dei secoli sono state organizzate numerose spedizioni alla ricerca dell'Eldorado. Alcune di queste spedizioni sono state finanziate da governi europei, altre da privati. Una delle prime spedizioni alla ricerca dell'Eldorado fu organizzata dal conquistador spagnolo Gonzalo Pizzarro nel 1539. Pizzarro si spinse nell'interno dell'America meridionale, ma non riuscì a trovare la città d'oro. Un'altra spedizione importante fu organizzata dal conquistador spagnolo Francisco de Orellana nel 1542. Orellana discese il rio delle Amazzoni, ma non trovò alcun segno dell'Eldorado. Nel corso dei secoli sono state organizzate molte altre spedizioni alla ricerca dell'Eldorado. Tuttavia, nessuna di queste spedizioni è riuscita a trovare la città d'oro. L'Eldorado come mito. L'Eldorado è diventato un simbolo dell'immaginario collettivo. È il luogo della ricchezza e della prosperità, un luogo dove i sogni possono diventare realtà. L'Eldorado è anche un simbolo dell'ambizione e della sete di potere. È il luogo che attira gli esploratori, i conquistadores e tutti coloro che sono alla ricerca di fortuna. L'Eldorado oggi. La leggenda dell'Eldorado continua ad affascinare le persone di tutto il mondo. È un mito che resiste al tempo e che continua a ispirare la letteratura, l'arte e il cinema. Alcuni storici ritengono che l'Eldorado sia stato un luogo reale. Altri ritengono che sia stato semplicemente un mito, creato dall'immaginazione degli europei. Qualunque sia la sua vera natura, l'Eldorado rimane un luogo di fascino e mistero. È un luogo che continua a ispirare l'immaginazione e a far sognare. Grazie. 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 Grazie.